Le indagini della procura sul neonato di 5 mesi, seviziato dal papà, il piccolo è ancora in terapia intensiva a Padova, era già finito in pronto soccorso a Vicenza questa estate. Incidente mortale sul ponte Cadore direzione sud dello Schianto, è accaduto poco dopo le 13 di oggi a perdere la vita una 59enne di Belluno che a bordo di un minivan aziendale avrebbe invaso la corsia opposta. Fuori Bondarite ieri sera al parcheggio di un supermercato di San Bonifacio nel Veronese tra due gruppi di extra comunitari, uno di loro è estratto una pistola, ha fatto fuoco un uomo, è ferito gravemente. Maxi, sequestro di droga dei carabinieri di Belluno, 7 kg di stupefacente, arrestate 9 persone, recuperati 17 mila euro in contanti, due teaser e una penna pistola. A San Marco, la festa delle forze armate col presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della difesa Guido Crosetto che ha parlato di fasci, militari e confini sulla piazza e il sorvolo delle frecce tricolori. Continuano le indagini, intanto sul presunto stupro avvenuto la notte di Halloween a Venezia nei confronti di una turista, 17 anni e i carabinieri cercano la vittima, l'aggressore sarebbe un militare. Il ragazzo dai pantaloni rosa, occhi lucidi e plaudo stamane a Treviso per la proiezione del film contro l'omofobia che era stata bloccata da una scuola media riprogrammata dopo le polemiche. Buonasera il telegiornale del Veneto, ben ritrovati partiamo come sempre con il sondaggio di Ring che punta a cercare di capire quali sono le vostre preferenze in merito al voto americano Harris o Trump, le due opzioni si va al voto domani con gli equilibri che potrebbero davvero cambiare anche dal punto di vista internazionale. Gli USA al voto, chi sarà presidente? Diteci la vostra con una chiamata che ricordo essere sempre gratuita, i due numeri che vedete in questo momento in sovraimpressione per esprimere la vostra preferenza e nel corso della puntata sarà reso noto l'esito del sondaggio. E siamo alla cronaca, cronaca che ci porta all'ospedale di Padova con le indagini sul neonato di 5 mesi, si è viziato dal padre, il piccolo è ancora in terapia intensiva ed era già stato ricoverato in ospedale. Non è la prima volta che il piccolo di 5 mesi finiva in ospedale, già quest'estate a poche settimane di vita era finito in pronto soccorso a Vicenza. Il suo quadro clinico migliorava e poi subito precipitava nuovamente fino all'ultimo ricovero a Padova quando le ferite al cavo orale hanno insospettito i medici della pediatria che hanno subito allertato alla polizia. In pochi mesi di vita aveva sperimentato maltrattamenti in più occasioni da parte del padre. Ora il 22enne Vicentino arrestato in flagranza mentre se viziava il figlio ricoverato in ospedale dovrà rispondere anche di altri possibili maltrattamenti avvenuti in passato e il sospetto è che possa aver picchiato il figlio. Adesso si stanno rivalutando anche investigativamente per capire meglio quando sono iniziate queste sevizie, queste condotte. È una storia purtroppo triste e dai contorni appunto sconvolgenti. Il bimbo di 5 mesi è ancora ricoverato in terapia intensiva. Sono stati infatti riscontrate anche lesioni agli organi interni oltre a quelle del cavo orale che avevano insospettito i medici al momento del ricovero. Il bambino sta proseguendo il suo percorso di cura nel migliore dei modi possibili. Sarà un percorso di cura lungo ma insomma come abbiamo dimostrato in altre occasioni noi pensiamo di riportare il bimbo ad una situazione di una normalità la migliore possibile. In una situazione così drammatica e sconvolgente rincuora il fatto che il piccolo stia migliorando giorno dopo giorno e potrebbe presto uscire dal reparto intensivo. Il papà è stato arrestato mentre lo seviziava nella culletta nella stanza di ospedale. I medici si erano accorti che il bambino nonostante le cure continuava a peggiorare soprattutto dopo essere stato con il papà. Sembra che la mamma appena ventenne si estra nei fatti da chiarire ora se anche il figlio più grande della coppia che a tre anni abbia subito violenze. Il papà interrogato dal magistrato non ha fornito spiegazioni. E nel Padovano restiamo a Cittadella con l'aggressione al pronto soccorso. Tra gli operatori sanitari presenti in quel momento c'era anche Luca Grande, infermiere e segretario provinciale del Nursid. Lo ascoltiamo. Io ero presente sabato mattina, effettivamente questa persona e lo sapete dalla cronaca ormai questa persona si era recata prima al centro di servizio mentale trovandolo chiuso il sabato mattina e poi si è diretto verso il pronto soccorso e lì è riuscito ad entrare senza chiedere permesso a nessuno. Sono impressi negli occhi e nel cuore di Luca Grande, sindacalista e segretario provinciale del Nursid, i minuti di terrore vissuti nel pronto soccorso di Cittadella, tenuto sotto scacco da un uomo armato di coltello, invisibile stato di alterazione. 34 anni, l'uomo in carcere con l'accusa di tentato omicidio, domani mattina sarà sottoposto dal GIP all'interrogatorio di garanzia. Una corsa folle la sua che prima di essere bloccato con il taser è riuscito a ferire anche un medico e un carabiniere. Ha trovato un medico che con grande coraggio, devo dire, si è messo a difendere i pazienti ed è stato anche lui a sua volta coltellato e poi è arrivato verso l'area gialla da dove noi siamo riusciti, perché ci inseguiva, a scappare verso l'esterno. Lui ha abbattuto delle porte mentre correva dietro a noi. Il carabiniere è stato appunto accoltellato sia al collo che alla guancia e un operatore del 118 a cui va dato un incomio insieme a quel medico che si è prodigato, entrambi si sono prodigati per cercare di salvare i pazienti e salvare anche i colleghi. Parole cariche di emozione, ancora di adrenalina nella voce di Luca Grande che nella sua veste di sindacalista chiede alla regione un intervento immediato. I pronto soccorso sono presidi aperti a chiunque 24 ore su 24. Noi attualmente, ed è anche la nostra richiesta attuale oggi del Nursing di Padova, sindacato delle professioni infermieristiche, è quella di avere quella famosa guardia giurata fissa 24 ore su 24 in pronto soccorso, perché attualmente mi risulta che ce n'è una che si alterna tra l'ospedale di Campo San Piero e l'ospedale di Cittadella. Nel momento di necessità non abbiamo avuto nessuno. Sono episodi che ti segnano in particolare questo. Ha sconvolto tutto il pronto soccorso, ma devo dire che tutti i colleghi si sono operati continuamente per cercare di non interrompere il servizio. Siamo nel bellunese Ponte Cadore. C'è stato un incidente mortale a perdere la vita. È una 59enne di Belluno in particolare. Ha improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia andando a urtare dapprima lo specchietto retrovisore di un'auto e successivamente la parte anteriore di una seconda vettura. Non ha avuto scampo la 59enne di Belluno che ha causato il tremendo schianto accaduto poco dopo le 13 di oggi sul Ponte Cadore fra Perarolo e Tai. La donna era al volante di un minivan aziendale, un Opel Combo in direzione sud verso Longarone. Testimoni affermano di avere visto il cambio di direzione di marcia improvviso, forse causato da distrazione o da un malore, e poi di aver assistito inermi al violento impatto. Sul Ponte sono arrivati subito i carabinieri della stazione di Pieve di Cadore, gli agenti della Polstrada di Valle per regolare il traffico e consentire i soccorsi all'ambulanza e l'elicottero del suo e moltre i vigili del fuoco. Purtroppo ai sanitari non è rimasto altro che constatare la morte della 59enne. Ferita e trasportata in elicottero all'ospedale di Belluno la giovane che guidava l'auto che non ha potuto evitare l'impatto con il minivan. Pesanti rallentamenti al traffico che è stato deviato sulla strada della Cavallera. Il Ponte Cadore è stato chiuso per un paio d'ore per consentire soccorsi e rimozione dei veicoli. Si tratta del secondo incidente mortale in quello stesso tratto nel giro di due mesi. Lo scorso 2 settembre in un incidente della dinamica pressoché identica perse la vita Vincenzo Martinazzo, 76 anni, di Montebelluna. Intanto è stato individuato in pochi giorni il pirata della strada che aveva investito due donne a pochi passi dal centro. Siamo a Bassano del Grappa. L'indizio principale era rimasto a terra lungo via Colomba. Si trattava di uno specchietto retrovisore della vettura che martedì 29 ottobre all'imbrunire aveva investito un'anziana e la sua badante uscite per fare una passeggiata. È così che la polizia locale dell'Unione Montana Bassanese ha velocemente individuato il responsabile. Nella serata di giovedì scorso, quindi sostanzialmente all'indomani del fattaccio, abbiamo avuto modo di individuare il conducente e il veicolo investitore. Il conducente che poi una volta individuato, insomma, si è presentato ieri, abbiamo avuto modo di sentirlo ieri mattina, passiamo su uffici e sostanzialmente reddito gli atti di diritto per poi deferirlo alla Procura della Repubblica. Si tratta di un 53enne Bassanese che era alla guida di una BMW X1. Il fascicolo che sarà aperto a suo carico riguarda l'articolo 189 del Codice della Strada, ovvero fuga e omissione di soccorso. La pena prevista arriva fino a tre anni di reclusione, oltre alla sospensione della patente. Al colloquio con gli agenti l'uomo non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità. C'era poco da nascondere, sostanzialmente, no? Gli indizi erano talmente chiari che, insomma, non c'era modo di confutare le provera cose. Restano ancora coperte da segreto istruttorio le cause che hanno portato all'urto tra la vettura e le due donne. Chiaramente fanno parte degli attivi d'indagine che non posso al momento riferire, insomma. L'anziana e la sua badante sono in via di guarigione e in buone condizioni complessive, pur con alcuni giorni di prognosi da smaltire. Con la cronaca siamo a San Bonifacio. C'è stata una fuoribonda a lite ieri sera al parcheggio del supermercato Famila, tra due gruppi di extracomunitari. Un uomo è rimasto gravemente ferito, è stato portato all'ospedale. Altri due sono feriti, ma in modo meno grave. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la lite sarebbe sfociata tra un gruppo di stranieri per futili motivi, tutti armati di spranga. Uno di loro ha estratto una pistola, ha fatto fuoco, l'uomo è stato colpito ed è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Borgo Trento, mentre il gruppetto si è dileguato in fretta e furia. E poi un altro episodio di violenza, questa volta davvero di poco fa. Siamo nella zona della Stanga, a Padova, una violenta lite tra cinesi. Uno dei due è stato ferito dal connazionale con una coltellata all'interno di un'automobile dove questi si era rifugiato per sfuggire alla furia dell'uomo. È accaduto in via De Cristoforis dietro il centro Giotto. Sul posto la polizia per i rilievi. L'aggressore sembra sia stato già bloccato, mentre il ferito è stato portato in pronto soccorso. Clamorosa operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno che ha effettuato un maxi sequestro di droga a 7 chili. Tratto in arresto a 9 persone ritenute a vario titolo responsabili di attività di spaccio di droga nel bellunese e in altre province. Gli arresti in seguito ad altre tante perquisizioni domiciliari supportate dall'impegno di cani antidroga. Nell'operazione sono stati recuperati 7 chili droga di vario tipo. C'era ecstasy, chetamina, codeina, oltre a 17 mila euro in contanti, due taser e una penna pistola. Due degli arrestati sono stati fermati nel giorno di ogni santi. A San Zenone degli Ezzelini i militari dell'arma hanno trovato un vero e proprio bazar della droga. C'erano 305 cristalli di chetamina, oltre 300 pastiglie di MDMA, due ovuli di eroina e diversi blister di metadrone. La Dana, il fenomeno che ha provocato il nubifraggio a Valencia, si sta spostando a Barcellona dove si è verificato un violento temporale. Noi abbiamo sentito un padovano che si trova lì. Questa mattina ci siamo svegliati con un'allerta rossa nel telefono, una classica allerta alla protezione civile. E visto quello che è successo a Valencia diciamo che sono tutti molto più attenti a questi tipi di allarme, per cui non siamo andati al lavoro. Diciamo che ha piovuto molto. Il pensiero è rivolto a Valencia e le immagini della devastazione. Sono state ore di angoscia anche a Barcellona per il violento temporale che si è abbattuto nelle scorse ore. Il racconto è di Stefano Zelco, padovani da anni ormai residente nella città catalana. Questa mattina al risveglio nel cellulare lampeggiava l'allerta a meteo massima. Piogge e torrenziali si sono abbattute soprattutto in provincia. Nella zona dell'aeroporto sì che c'è stata qualche inondazione. Ci sono delle immagini che cercano noi in rete con l'aeroporto mezzo allagato. Insomma sta piovendo dentro. Ci sono delle strade, le strade che collegano la zona dell'aeroporto che sono anche autostrade che sono un po' inondate. Però diciamo che sono alcuni punti, soprattutto fuori città, che hanno qualche tipo di problemi. Insomma, però ecco, niente in comparazione con quello che è successo a Valente. Le piogge hanno lagato la Rambla de Poblenou e hanno provocato l'interruzione dei collegamenti ferroviari regionali e molti voli aerei sono stati cancellati. I nervi sono un po' tesi, nel senso che ogni volta che, visto quello che è successo, ogni volta che si dà qualche allarme o ha previsto un po' di pioggia e che magari in un altro momento sarebbe stata considerata come qualcosa di abbastanza normale, è ovvio che la gente e che le autorità reagiscono. 4 novembre siamo in Piazza San Marco per la festa di Unità Nazionale delle Forze Armate. Oggi a Venezia è arrivato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In una Venezia abbacciata dal sole, 21 colpi di cannone sparati dalla nave della Marina Militare hanno accolto questa mattina l'arrivo in Piazza San Marco, due minuti dopo mezzogiorno, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la giornata dell'Unità Nazionale, festa delle Forze Armate. Mattarella ha salutato con cordialità e simpatia i bambini del cuore veneziano, che hanno avuto in dono bandierine, tricolori e capelline. Poi ha presenziato dal palco senza parlare, come era previsto dal cerimoniale, ad accompagnarlo il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Capo di Stato Maggiore, Generale Luciano Portorano. A margine il Ministro Crosetto si è soffermato anche sui temi della politica nazionale e internazionale, assicurando che qualsiasi sia l'esito delle elezioni americane non cambieranno i rapporti di allianza con l'Italia e i carabinieri saranno inviati in palettina solo se vi saranno condizioni di sicurezza necessarie. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo enorme, nel senso che abbiamo aumentato di oltre 800 persone, i militari a disposizione di strade e stazioni sicure. Io penso che dal prossimo anno sia magari più importante aumentare le forze di polizia e lasciare che le forze armate, o la maggior parte delle forze armate, riprendano a fare quello che serve in questo momento, che è forze armate. Per Crosetto sulle strade servono più poliziotti e meno membri dell'esercito. 4.000 persone tutte in piedi in piazza San Marco, lungo le transenne, hanno assistito alla cerimonia. Sul palco il governatore Zaglia, il sindaco Brugnaro, il patriarca Moraglia. Così il Ministro Crosetto ha i nostri microfono. Venezia, come ha risposto oggi, una grande giornata? Venezia ha risposto come solo Venezia può rispondere, offrendo un posto straordinario, una giornata incredibile e una popolazione che vuole bene all'Italia, vuole bene alle forze armate, vuole bene alla Repubblica. Quali sono le sfide che abbiamo davanti adesso come paese? Abbiamo un mondo e delle ferite che la guerra ha portato sia all'interno dell'Europa sia in paesi vicino a noi e affrontarli è una sfida che le forze armate fanno ogni giorno, che il paese cerca di fare ogni giorno. L'abbiamo ricordato oggi. Il nostro compito è di creare le condizioni di pace e sicurezza. La prima cosa che chiedo da Venezia è un messaggio di pace molto forte. Certo, nessuno più delle persone che hanno perso degli amici, hanno perso un arto, hanno perso un pezzo della loro vita, sanno quanto sia importante il valore della pace. Intanto continuano le indagini sul presunto stupro avvenuto la notte di Halloween proprio a Venezia nei confronti di una turista di 17 anni. I carabinieri stanno cercando la 17enne straniera che la notte di Halloween sarebbe stata violentata in un bar nella zona di Rialto a Venezia. A raccontare il fatto, una ventenne veneziana che avrebbe raccolto il pianto disperato della vittima, ma soprattutto il suo racconto, motivo per cui poi la soccorritrice si è recata dai carabinieri a raccontare quanto era accaduto e ora sono alla ricerca della giovane che sarebbe stata aggredita. La ventenne veneziana che l'ha soccorsa ha riferito che la ragazzina è arrivata in laguna scortata dalla cugina, più grande di lei di qualche anno, e quando quella notte le si è avvicinata, sembrerebbe anche alterata dall'alcol, aveva le ginocchia sanguinanti, il viso rigato dalle lacrime e tra i singhiozzi spiegava di essere stata stuprata da un ragazzo più grande, conosciuto in un bar di Campobella-Vienna, che le aveva detto di essere un militare in città per le celebrazioni del 4 novembre. I due avrebbero trascorso qualche momento insieme, forse bevendo un po' troppo, ha raccontato ancora la ventenne veneziana, e quando la diciassettenne a un certo punto è andata in bagno, lui l'avrebbe seguita e dietro la porta della toilette aggredita. A nulla sarebbero serviti i rifiuti della ragazza, lui le avrebbe strappato gli slip e dopo averla violentata lasciata lì. Dalle domande che la soccorritrice veneziana ha rivolto poi ai ragazzi presenti, dopo aver ascoltato la diciassettenne, sarebbe emersa anche una chat in cui qualcuno si vantava della violenza, elementi su cui i carabinieri stanno cercando di far luce, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Domani al Tempio Canoviano di Possagno si terrà l'ultimo saluto ad Eros Soccal, scomparso il 31 ottobre a causa di un tumore fulminante. Eros Soccal, ex pasticcere e grande amante delle moto, è morto a 76 anni dopo una breve malattia. Conosciuto per la sua pasticceria Aurora nel centro di Possagno, famosa per la meringa con la panna, Soccal era anche fondatore del motoclub Ducati Pompone. Il suo funerale si svolgerà alle 6 del mattino, come da lui richiesto, affinché partecipino solo coloro che gli volevano bene. La famiglia Soccal onorerà le sue volontà con una cerimonia al Tempio Canoviano di Possagno. Eros lascia la moglie Marisa, il figlio Hermes, la nuora Giada, i nipoti Edoardo e Camilla, la sorella Aurora e il cognato Agostino. Grande la curiosità a Possagno per quanti effettivamente parteciperanno al rito funebre. In molti ricordano Soccal per la sua grande professionalità come pasticcere e anche come amico, come il professor Giancarlo Cugnial che lo ha ricordato con affetto, menzionando le tante giornate cominciate all'alba e le numerose esperienze condivise dalle fornaci ai viaggi in moto. Il ragazzo dai pantaloni rosa, occhi lucidi, applausi questa mattina al Cinema Edera. Siamo a Treviso per la proiezione riservata agli studenti di seconda dell'Istituto Serena di Treviso dopo le polemiche della scorsa settimana. Ci ha insegnato che le parole possono fare male, più dei fatti, hanno detto i ragazzi. Occhi lucidi e commozione al termine della proiezione al Cinema Edera dopo le polemiche e l'anteprima per gli studenti del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, ispirato alla storia vera di Andrea Spezza Catena, il quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo aver subito atti di bullismo dai compagni di scuola. Gli studenti di seconda media dell'Istituto Serena di Treviso sono tra i 60.000 ragazzi che hanno assistito alla proiezione e poi al dibattito collegati con Roma a rispondere alle domande degli studenti il cast del film e la mamma di Andrea, Teresa Manes, che risponde così quando le chiedono se porti rancore ai bulli di suo figlio. Entrando in quelle ciac, dove ho visto scorrere tra le riga la vita di Andrea che si interfacciava con i suoi compagni, ho visto che c'è stata tanta inconsapevolezza. I ragazzi, i compagni si stavano trasformando piano piano in bulli senza volerlo e Andrea si stava trasformando piano piano in una vittima senza saperlo. Quindi come fai ad avere rancora verso chi non si è reso conto di quello che stava accadendo? Però quello che è accaduto poteva essere usato per farne qualcosa di buono. Ed il film è stato molto apprezzato dai ragazzi. Ci ha insegnato che le parole possono far più male dei fatti, ci dicono, emozionati. E quello di oggi, dicono gli insegnanti, è stato un momento educativo importante per lavorare contro il bullismo. Nel nostro istituto non si possono definire proprio atti di bullismo, ma sono degli scherzi che poi possono derivare, possono cadere poi in cose più gravi. La prevenzione è la prima cosa. Dal 7 novembre il film sarà nelle sale per il grande pubblico. Ho sentito diversi applausi durante la proiezione, quindi capisco che ai ragazzi è piaciuto. Spero che sia visto da ancora più scuole, perché il messaggio è importante e ci tengo a ribadire che è trattato con grande delicatezza. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento di serata con l'informazione di Antena 3. Grazie. 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 Grazie.